Ciao internet, dobbiamo parlare di Alex Jones. Magari non sapete nemmeno chi è, ma è importantissimo perché nei prossimi mesi e anni buona parte della censura che vedremo da parte delle piattaforme internet avrà a che fare, soprattutto la censura sulla violenza e sull'estrema destra, avrà a che fare con questa persona. Alex Jones è il patron di Infowar, un impero basato su... sul complottismo. E c'è poc'altro da fare, quando tu dici che le scie chimiche fanno venire la pioggia acida che rende le rane gay e anche gli esseri umani, quando tu dici che i democratici sono alla base del pizzagate, questo enorme complotto che ha a che fare con una sorta di, non so, bazar della pedofilia di cui i democratici sono la parte principale, quando dici che bisogna armarsi contro la nazione perché i democratici vogliono sovvertire il governo, qualcosa dentro di te non funziona. Dentro di te e dentro una parte delle persone che ti seguono. Infowar è andato avanti per anni, fino a che, a un certo punto, qualcuno si è chiesto se tutta questa violenza che veniva perpetrata, tutta questa serie di improperi, di disumanizzazione delle persone, non doveva avere un limite. Tante cracchiere, tante parole tra tante piattaforme fino a che nessuno prende in realtà la prima decisione. Tutti si guardano, tutti dicono è libertà. Una notte Apple decide che ne ha troppo, ne ha abbastanza e toglie dai podcast Alex Jones. La mattina dopo le piattaforme sono nel panico. Sono nel panico perché uno di queste piattaforme ha preso la decisione e adesso il fatto di non aver rimosso la violenza di Alex Jones nei confronti delle minoranze, nei confronti dei diversi, diventa un problema. Diventa un problema perché? Perché altri l'hanno fatto, quindi potresti farlo anche tu, ma non ti sei ancora mosso. E in capo a 24-48 ore YouTube blocca i canali, Facebook rimuove le pagine, rimane solo Twitter. Ah, poi Vimeo cancella tutto, rimane solo Twitter. Twitter che si, in questa sua veste un po' strana fa un po' da paladino e un po' no. È chiaro come Twitter sospenda una gran parte delle persone anche per piccole frivolezze, in questo caso non lo sospende perché non ha violato i termini di servizio. Salvo poi che una serie di giornalisti fanno vedere che lo ha violato ripetutamente, al che ritorna e dice no ma i termini di servizio erano diversi all'epoca. Dall'ultima volta che abbiamo fatti non li ha violati, salvo poi dimostrare che in effetti li aveva ancora violati. E adesso trovare le scamotage, una sospensione di sette giorni perché ha detto armatevi alle persone, c'è bisogno di imbracciare le armi e di prepararsi. Tutto questo per dire che cosa che le grandi piattaforme si stanno muovendo contro l'odio e l'aggressione verbale di delle minoranze. Una cosa di cui Alex Jones è il principale fautore ormai da anni ma che ora ci si riesce a muovere. È un'ottima notizia vero? È un'ottima notizia perché alla fine da anni diciamo che la violenza va bloccata, che le piattaforme devono prendere una posizione, che devono fare qualcosa e finalmente lo fanno rimuovendo una voce scomoda. O forse no. O forse invece sai abbiamo un altro problema, un problema più complesso. A quanto pare i termini d'uso, i termini di servizio delle piattaforme sono interpretati per gli amici e applicati nei confronti dei nemici. Altrimenti non sarebbe più dovuto essere lì da anni. Lo so, lo so, lo so che il meccanismo è un po' più complesso. Non è che tutto quello che contravviene ai diritti, tutto quello che contravviene alle norme viene cancellato direttamente. C'è bisogno di segnalazioni, moltiplici segnalazioni e poi bisogna prendere una decisione. Ma anche in questo caso ci si è mossi solo quando la reputazione della piattaforma era messa, era messa in discussione. E muoversi così quando la stampa si muove con dei meccanismi attendibili, muoversi così quando ci si muove per opportunità e non per i fantomatici termini d'uso, altrimenti li avrebbe violati altre mille e mille volte, beh allora è forse un altro tipo di problema, un problema ancora più sostanziale. Il problema del chi decide quando è abbastanza, chi decide quando è il momento giusto, chi decide se è giusto o meno. Ancora una volta la frase che ci piaceva tanto, quis custodiet, custodet ipsos, chi custodirà coloro che custodiscono. È chiaro che per termini d'uso e termini di servizio ci si riservi la possibilità di rimuovere determinati tipi di contenuto, perché? Perché non si vuole liability, non si vuole essere resi corresponsabili del fatto di non aver rimosso qualcosa, ma dall'altra parte della barricata le norme se ci sono devono essere applicate a tutti nello stesso modo. E se ci pensi bene ti vengono in mente un paio di pagine facebook anche italiane che in questo periodo potrebbero aver bisogno di essere rimosse, rivisitate o bloccati, eppure forse per opportunità, forse perché ancora nessuno ha fatto cagnare, beh rimangono aperte. Questa discrezionalità da parte delle piattaforme è il problema reale. Non sono contro il fatto di poter rimuovere contenuti, per la carità del cielo, o di mantenerli sulla piattaforma, sono contro la discrezionalità. E forse la soluzione non è nemmeno rimuoverli, sai? Forse la soluzione migliore è quello di rimitarne che cosa? Il danno. Il danno che cos'è? Il contenuto in sé? No, la viralizzazione del contenuto. E allora lasciamo aperti a queste persone la possibilità di esprimersi, blocchiamo la possibilità di condividere questi contenuti al di là della piattaforma, pardon, al di là della singola pagina. Blocchiamo la possibilità di viralizzare, togliamo il pulsante condividi, blocchiamo la condivisione sulla piattaforma come può essere Facebook, blocchiamo il retweet. In questo modo lasciamo le libertà di parola per coloro che vogliono approvoginarsi a quella fonte, ma non la possibilità di diffondere violenza e disumanizzazione. almeno così la penso io, ma se ci pensi bene forse è anche la tua divisione. E forse abbiamo ragione entrambi, ho torto entrambi. Forse davvero è il momento di fermarsi e chiedersi quando è troppa la possibilità di parlare? Quando è troppa la possibilità di generare violenza? Quando è troppa la possibilità che la mia condotta generi violenza e disumanizzazione? E quando è il momento, se esiste un momento, per intervenire? E anche se io intervengo però, devo capire chi interviene? Lasciamo davvero la discrezionalità alle piattaforme? O abbiamo bisogno di qualcosa più in alto? E non è facile. Di che cosa parliamo? Di un tribunale internazionale? E chi ci mettiamo? E verso quali governi? Forse, come spesso dico, esistono risposte semplici alle domande, e quasi sempre sono sbagliate. La risposta è molto più complessa di quello che ciascuno di noi pensa, e anche se a me fa piacere vedere Alex Jones, come tutti i complottari, fuori dalla rete, forse non è la soluzione a lungo periodo migliore da fare. E voi? Cosa ne pensate? Mi scrivete qui sotto un paio di pagine Facebook, di account Twitter, che secondo voi dovrebbero essere segnalate, dovrebbero essere rimosse, ma nessuno ha ancora fatto nulla per rimuoverle? Mettetemi anche la motivazione. Chissà mai che magari i commenti qui sotto smuovano alcune delle piattaforme con quell'imparazzo che sembra essere necessario per farle muoverle. Io sono Matteo Flora, e come sempre vi faccio compagnia durante l'anno, 5 giorni alla settimana, durante le vacanze una volta alla settimana con questi speciali. Nel caso ve lo chiediate, questa è l'isola di Kerk, in Croazia, e siamo a Voz, una vecchia cava. Là in fondo c'è una bellissima spiaggia in cui siamo stati tutto il giorno. E per il resto, beh, per il resto è nulla. Se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Tenete vivo il dibattito, parlate, condividete questo messaggio e questo video con quelli con cui volete chiacchierare, con le persone con cui vale la pena di chiacchierare. Se non vi siete ancora iscritti, questo, a parte il vento, è il momento giusto per farlo. E, come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e state parate.